ciao amici valio investor siamo in diretta scusate c'è stato un problema tecnico prima non so cosa sia successo però non leggevo più i commenti non vedevo più youtube però manco adesso lo leggo però va bene uguale siamo così stasera con arni trezzi e che è un mio amico oltre che uno dei membri anche del circo del vario invest il nostro gruppo discord e siamo stasera con un investitore e creator full time ok proprio questo della vita dalla mattina alla sera e specializzato però su aziende tech dominanti quindi arni se ti vuoi presentare e perci un po farci un'introduzione vai ciao a tutti grazie davide di ospitarmi faccio una piccola premessa se mi scappa qualche inglesismo terribile per favore perdonatemi perché sono ormai abituato a scrivere e parlare in inglese quindi qualche brutta parola verrà fuori allora partiamo ti faccio un po un po di domande ti faccio un po di domande così ti presenti anche al pubblico e andiamo un po a condividere quello che il tuo stile di investimento allora innanzitutto che vuol dire azienda tech dominante cioè quando è che un'azienda secondo te è dominante nel suo settore nel suo mercato guarda farei una un'altra premessa perché parlare di azienda tech in realtà è già un sotto insieme se facciamo un una lente di ingrondimento sul cosa vuol dire dominante in realtà è un qualcosa che va indipendentemente dal settore da investitori siamo abituati a pensare in a in termini di numeri quindi il roic il margine eccetera e vorrei dire sì è tutto importantissimo quello è l'espressione della dominanza ma la dominanza parte in realtà da un fattore qualitativo e il modo semplice più o meno semplice intuitivo di vedere la dominanza è qual è l'azienda che detta le regole nel settore quindi qual è quell'azienda che effettivamente dice come le cose devono fare devono essere fatte la direzione quindi verso cui poi gli altri devono adeguarsi e ci sono diversi esempi il primo che era venuto in mente avendo lavorato in in finanza nel settore dell'asset management dove ci sono tutti i vari fondi e che mi sono reso conto che dove blackrock andava dove blackrock diceva che si sarebbe dovuto andare poi tutti gli altri fondi volendo non andavano a seguire e questo è diventato non evidente di più con isg il discorso di investo sostenibile bla 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 è qualcosa che c'era in giro da tantissimi anni però poi blackrock un 5 10 anni fa ci ha visto l'opportunità ha detto ma sapete cosa questa roba diventa isg quello che prima era investiamo sostenibile diventa isg e ci ha creato tutta la macchina di marketing attorno che adesso sta andando avanti adesso un po più debole però è ancora lì e quindi dici cavolo siamo arrivati gli ultimi anni dove l'intera finanza perfino terry smith è arrivato in un'intervista dire well isg is the is the world of the day non non puoi avere un meeting senza parlare isg quindi immaginati perfino le scatole piene che sa avuto pure terry smith che puoi immaginare che non le può fregare di meno però anche lui doveva parlare di isg perché in quel momento l'industria richiedeva che tutti parlassero di isg un altro esempio può essere quando l'azienda quindi setta le regole della categoria le regole del gioco diciamo è ovviamente l'azienda dominante quando tutti gli vanno dietro magari più vicino alla gente perché magari non tutti conoscono black rock non lo so però c'è strano che la conoscono magari c'è qualcuno che non conosce se puoi fare proprio un esempio di vita di tutti i giorni di prodotti magari anche beh il dispositivo da cui stiamo facendo questa diretta nel mio caso un iphone e un macbook rispecchiano chiaramente una dominanza da parte di apple dove apple fa capire che si va tutti poi seguono anche se magari all'inizio sembrano cose strane ma perché hanno tolto usb ma perché hanno tolto alla fine all'inizio sta sulle scatole ma poi alla fine tutti si adeguano e quindi questi sono segnali di potenza quello che ho imparato da analista ho fatto l'analista per due anni avendo studiato finanza e avendo lavorato anche in banca di investimento come investment banking e ho fatto la mia prima esperienza lavorando in un fondo investimento quindi ho visto un po tutta la dinamica ho capito che i numeri sono importanti importantissimi per come dire avere espressione di quello che uno pensa che ha una qualità lo vede riflesso nel numero ma il rischio grossissimo della maggior parte delle persone è quella di perdersi nei numeri senza capire come quei numeri vengono generati e capire la matrice che genera quei numeri in questo caso stiamo parlando di dominanza è più importante che il numero stesso perché se tu capisci come funziona il settore hai esperienza nel intuire che ogni settore è mosso da dinamiche particolari e ti rendi conto che un'azienda effettivamente è la leader e tutte le altre seguono è solo questione di tempo prima che poi quello venga diventi un numero è vero perché sono d'accordo con te perché molti ad esempio no si fissano su dei parametri ok faccio un esempio tipo roic ok ritorno sul capitale investito e ti dicono ma questa azienda però un roic basso quindi vuol dire che non è un'azienda dominante e magari sta azienda è amazon per dire ok quindi si vanno a guardare dei numeri perché sono molto diciamo hanno loro le loro checklist molto ferre sui numeri quindi se qualche check se qualche numero non è rispettato ok questa non è un'azienda dominante invece di guardare il quadro con la cornice guarda tutta la situazione e oltre al diciamo al roic sono tanti altri parametri che poi ti dicono è ma c'ha un gross margin troppo basso ok ad esempio però magari sta azienda con gross margin molto basso si chiama costco per dire quindi sono d'accordo con te che a volte i numeri possono essere fuorvianti siamo troppo attaccati ai numeri hai qualche magari altra esempio che ci puoi fare di azienda dominante che però dai numeri ancora cioè non lo diresti ecco magari c'è qualche parametro che non è proprio nella casistica delle aziende definite così dominanti a livello accademico proprio beh diciamo che come ben detto prima ogni azienda è in un settore ogni settore può dare degli indizi diversi tanti mi conoscono ormai su su youtube un po' meno ma su twitter per palantir palantir è un'azienda dominante anche se dai numeri l'anno scorso tu la vedevi dici ma sta roba manco fa profitto sono in giro da vent'anni dov'è la dominanza eppure è proprio guardando bene sia le informazioni quantitative dettagliate ovvero fai un confronto diretto sulle metriche specifiche del settore sas quindi software as a service con la leader assoluta da un punto di vista numerico che service now immagina per chi non la conosce immaginatevola come una salesforce quindi subscription b2b che vende all'azienda software in modo ricorrente ma questa azienda è gestita meglio di salesforce e cresce meglio e quello che avevo notato di palantir è che se tu vuoi vedere le metriche già due anni fa quando palantir era ancora bruttina nel senso che era net profit a livello di gap profit era negativa le dinamiche pure del sas quindi del settore software erano in realtà molto buone perfino meglio di quelle di service now e quindi io ho cercato quegli indicazioni che mi facciano dire wait a second questa azienda in questo momento ai numeri che non sono ancora belli però ci sono già delle metriche che dici ma non hanno senso com'è possibile che st'azienda così piccolina abbia numeri già così belli nonostante sia così piccola in un business software dove le economie di scala contano e ad esempio ha i top clienti quindi top 20 clienti che pesano già dieci volte di più a livello di fatturato per cliente di quelle di un colosso che è già quattro o dieci volte tanto e dici qui c'è qualcosa di strano e tutta sta roba è inutile se tu la guardi solo dal punto di vista numerico ma se tu invece dai molto peso anche a tutte le informazioni qualitative e ti chiedi ok palantir dice siamo l'azienda che da software per le missioni critiche e dice ok è successo il covid è una cosa critica direi direi di sì in inghilterra quando è successo il covid hanno fatto sedere al tavolo delle aziende che penso tutti conoscono amazon google microsoft e poi palantir quindi un trillion un trillion un trillion 30 billion di market cap come è possibile che un'azienda che uno sputo seda agli stessi tavoli se stiamo parlando di b2b il fatto di sedere ai tavoli più potenti del governo è un'indicazione di potenza cosa che nei numeri non era ancora pienamente riflesso quindi questo per dire è importante guardare il roic ma se tu guardi solamente il roic a parte che vedi un qualcosa che già tutti vedono e a maggior ragione adesso ci sono tantissimi influencer su twitter così che tutti sono focalizzati solo su quality investing praticamente quelle poche aziende quality tutti sanno che sono quality e quindi è vero però però è importante che tu in realtà vedi quelle aziende che hanno un roic alto senza che venga riflesso estremamente nel numero roic ora sembra un po sembrare una cosa magica ma più che guardare il ritorno on capital uno deve vedere il il rate di miglioramento del roic quindi più che guardare il numero finito quindi del ritorno on capital uno deve chiedersi ma questa azienda sta effettivamente migliorando ogni anno che passa e questo si connette molto al discorso del mot dava l'investor ci piace parlare di molto ma molte volte vedo che il rischio è ma questa azienda che moto ha e viene sempre fuori un mot perché è bello da raccontare ma come questo mot diventa nei numeri diventa nei numeri nel momento in cui l'azienda mano a mano che cresce diventa sempre più dominante e riesce ad estrarre valore dalla sua dominanza quello che va l'investor che mi piace anche se adesso ha fatto un flop con carvana però ha detto una cosa molto interessante quello che si chiama ecosystem control che si connette perfettamente al discorso detta le regole del settore ok diciamo che allora il fatto è questa la gente cerca sempre sicurezza certezze ok cioè la gente ha sempre il timore che il mercato sa qualcosa che tu non sai ok quindi avere che 45 parametri ok e si prendono la spunta verde perché roic è sopra il 20 per cento gross margini sopra il 50 per cento operating margini sopra il 20 ti danno quella finta certezza a un certo punto hai fatto l'investimento di qualità ok però magari è proprio una cosa molto superficiale questa perché faccio un esempio anche intel nel 2000 20 ce l'aveva sti parametri perché roic è sopra il 20 per cento grossi margine sopra il 40 lo vedeva mai sopra il 20 poi dopo è cambiato pensando in phase fino a un paio d'anni fa uno vedeva i numeri già sti cavoli roic infinito margini infiniti è perfetta e qui il grossissimo paletto del tu devi è più importante capire come quei numeri evolvono perché evolvono più che vedere il numero perché se tu guardi il numero e basta praticamente guardi sempre il passato ma sono le aspetti le i paletti qualitativi che ti fanno capire come i numeri vengono generati quindi ti fanno capire meglio la direzione dei numeri futuri esatto e qua mi riallaccio un'altra cosa che è proprio un pilastro del value investing però anche molto abusato ok perché anche questo parlo del sistema di valutazione più famoso in ambito diciamo value investing che è il famosissimo discounted cash flow perché anni fa il grande warren ha detto che lui valuta le aziende così anche se charlie ha detto non ho mai visto fare un discounted cash flow a warren allora qualsiasi azienda che porti su youtube o su un post su twitter un articolo su substa comunque ti chiedono ok ma ci puoi fare una valutazione con il discounted cash flow come se fosse cavolo la prova provata universale che quell'azienda è un buon affare è sottovalutata o sovvalutata tu cosa ne pensi di questa cosa guarda rischi di sembrare ipocrita a dirlo perché avendo lavorato da analista avendo studiato in finanza mi ritrovo adesso nella posizione di dire che il dcf si è utile ma poi ti fa prendere veramente delle gran saccagnate e quindi è importante averlo nella tua cassetta degli attrezzi ma necessariamente non deve essere l'attrezzo con cui tu cerchi di colpire tutto il mondo come dice munger non è che una volta che il martello tu devi colpire tutto con questo martello ma perché perché da analista praticamente il mio lavoro era prendi l'azienda studiala facci il modellino e devi capire se è sopravvalutata sottovalutata e quando hai abbastanza sensibilità sul dcf capisci bene quanto le assunzioni che tu metti di fatto ti fanno avere il numero che vuoi cioè io adesso sono nella condizione in cui se voglio raggiungere un certo numero so bene come modificare quei numerini magici per numerini magici intendo il discount rate terminal growth basta cambiare quello di un 1% qui un per cento là boom hai già dei risultati completamente diversi e quindi vuol dire che la maggior parte delle volte ma questo vale per tipo tutta la tipologia di investitori che pa che siano retail che siano professionisti che siano analisti il rischio grossissimo di fare il dcf è che tu parti in realtà dalle assunzioni che in testa e proietti le tue assunzioni nel modello nel momento in cui già tu fai questo lavoro a maggior ragione che sei un investitore quindi non deve neanche vendere il report cioè se devi vendere il report c'è palesemente il bias altrimenti che fai quando sei un investitore tu non vuoi perdere tempo nel studiare un qualcosa che non è un'opportunità di investimento diciamolo chiaro ci piace studiare l'azienda e ci piace pensare che quell'azienda può essere potenzialmente l'opportunità della vita e quindi vuoi non vuoi un po di bias ce lo mettiamo quindi uno fa il dcf e di fatto mette come input delle assunzioni che lui vorrebbe avere poi chiaramente c'è il margine di sicurezza che ti fa capire bene o male quanto sei stato conservativo o no quello dipende un po dal prezzo però c'è questo problema grossissimo il dcf di fatto parte della tua assunzione che di base tendono a voler confermare che tu stai trovando un buon affare e poi lo confronti col prezzo la cosa che ho imparato che quasi nessuno fa quando l'ho fatto su palantir è stato o mio dio cosa ha fatto ha fatto una cosa rivoluzionaria è fare il contrario quello che si chiama reverse dcf cosa che da un punto di vista di analista non fa nessuno già non ci scrivono il report sopra da un punto di vista by side non viene fatto perché quando tu sei un fan manager e devi giustificare che compri qualcosa fai il dcf per giustificare che va comprato non che va non va comprato il dcf reverse che cos'è praticamente metti le assunzioni per far sì che tu arrivi esattamente al prezzo attuale quindi piuttosto che partire dalle tue assunzioni e dire vedo poi quanto è più o meno ottimista rispetto al prezzo partiamo dalla realtà quindi ciao ne alle assunzioni ma partiamo dalla realtà dei fatti questo è il prezzo e il prezzo a questo punto sconta delle aspettative e il nostro lavoro poi diventa ma cerchiamo di capire quanto sono ottimiste o pessimistiche queste assunzioni e quindi se tu ricostrui praticamente fai un dcf arrivando esattamente al prezzo chiaramente mettendoci delle assunzioni ragionevoli ma nel momento in cui tu ti rendi conto che il prezzo attuale incorpora delle aspettative che sono eccessive o al rialzo o al ribasso allora hai un segnale dici fermo un attimo ora metti insieme tutta tutte le mie informazioni che ho raccolto da un punto di vista qualitativo e dico no fermi un attimo io adesso sto comprando questa azienda che costa 10 a questo prezzo di 10 le aspettative implicite nel prezzo sono che questa azienda cresca dal 10 15 per cento ma questo 15 per cento verrà distrutto sicuramente nei prossimi anni se è vero che questo mega trend viene messo in atto e quindi c'è già un vonto a favore poi valuti il passato dell'azienda valuti il presente dell'azienda sulla base di quello che l'azienda sta facendo dato il suo modello di business e se tu ti rendi conto che già da un punto di vista organico senza avere neanche troppo effetto tailwind macro questa azienda può crescere dal 20 25 per cento già lì tu dici ok sono nella direzione in cui so che non la sto sto pagando se poi a questo ci metti insieme anche un fermi un attimo questa qui è un'azienda dominante al vento a favore e diventerà un vento molto a favore tu praticamente ti ritrovi in una circostanza di insieme di circostanze estremamente favorevoli che poi se ho una pazienza diventano un boom nel prezzo dell'azione e questo che ti ho raccontato non è una cosa che mi sono inventato adesso ma è di fatto quello che è successo con palantir l'anno scorso l'anno scorso il prezzo era depresso quando il prezzo depresso le assunzioni implicite nel prezzo sono molto basse e se tu facevi il reverse dcf di palantir veniva fuori fermi un attimo questa azienda è un'azienda dominante è settata per diventare sempre più dominante in un macro trend quello dell'intelligenza artificiale che è disruptive o perdona d'urto in tutti i settori ci sono buone condizioni tale per cui la macchina diventerà più più forte la valutazione verrà apprezzata e lì inizia ad avere i motori della valutazione che valuta vanno tutti nella tua direzione qua risponderei a christabel divatoni che dice come fai a sapere però che la crescita scontata è sensata ok qua mi vorrebbe da dire il buon senso beh diciamo che come fai io faccio la controdomanda come fai a capire che quando fai un dcf mettendo tu le assunzioni stai mettendo dei numeri che hanno senso nessuno ti dice è giusto giusto un po di buon senso quindi se è un'azienda tipo coca cola la crescita implicita del 30 per cento è l'equivalente di tu che metti in un dcf 30 per cento di crescita dici magari è possibile magari coca cola diventa coca tech e magari prende il volo però è già un'assunzione difficile da giustificare quindi il numero giusto che alla fine è quello che uno fa ad analista con la presunzione che il suo numerino che mette nell'excel sia preciso ma realtà è un è un numero che mi deve sembrare sensato deve essere sensato in base alla struttura dell'azienda rispetto al contesto dell'azienda quindi settore in base allo storico ci sono aziende che sono in grado di cambiare molto velocemente potenzialmente tipo invidia che in un boom c'è boom di domanda loro si beccano tutto il beneficio ed è una vendita istantanea non è come una vendita software magari in cui hai sei mesi di pilot se tu hai un business model che può crescere boom lì dici non lo puoi o come dire o conosci veramente bene tutto il settore ti rendi conto che è possibile fare un tre per due per in un anno oppure quello però nell'argo nell'ordine di aziende semplici che sono possiamo dire più lineari è difficile che ci sia una qualche dinamica che faccia cambiare di molto la linearità però tutto gravita intorno al conosco veramente la struttura di business con cui l'azienda fa soldi perché se uno risponde a quella domanda allora capisce anche quanto è più o meno sensato che l'azienda continua a crescere in una certa direzione e poi dipende chiaramente dalle varie opportunità di crescita eccetera poi sono dei casi in cui c'è tu manco manco lo fai il discount di cash flow ad esempio cioè abbiamo detto prima non è che se hai il martello in mano ogni cosa ti sembra anche odo come dice guarda in vape sono dei casi in cui non è che puoi usare sempre lo stesso metro di valutazione per un'azienda ok e credo non lo so sei d'accordo su sta cosa ma in realtà volevo rigirartela come una domanda quanto credi a buffett scommi a charlie munger che dice che buffett non non fa mai dcf ma chi è l'ipocrita chi è che chi è che mente qua buffett non ha mai negato quello che dice charlie ce n'ha mai detto no charlie ti sbagli io effettivamente lo utilizzo cioè mi sembra quello che ho capito lui fa un discount di cash flow mentale nel senso che fa delle assunzioni così semplici ok magari raddoppia i flussi di cassa nella sua testa nel corso di dieci anni in modo che riesce a fare dei calcoli molto a spanne e se viene fuori che ha un prezzo ragionevole compra non è che si va a fare nel dettaglio che questa è la crescita del revenue questo il margine operativo questo è il tasso di scommi da applicare e charlie invece penso che secondo me non lo utilizzi molto proprio cioè lui vada molto a non so molti vi farà delle valutazioni paragonando quell'azienda rispetto ad altre aziende farà una valutazione molto sicuramente non scriverà niente non utilizzare nessun foglio di calcolo anzi secondo me non so ma come si apre excel ma guarda questa qua è una cosa su cui abbiamo dibattuto non forse se mi ricordo se eravamo noi due o con anche gabri ma penso che l'essenza sia che per quanto buffett sembri un ipocrita perché dice tutte le aziende sono valutate come il present value dei futuri flussi e poi tu dici sì però poi non fa il modello la realtà è proprio quella ovvero ogni azienda nel momento in cui tu vedi anzi abbiamo detto prima il prezzo implicito dal reverse dcf non è altro che attualizzo i flussi di cassa futuri per vedere bene o male l'aspettativa nel prezzo quindi per definizione qualsiasi prezzo è un present value di aspettative e futura ok la cosa difficile è capire bene o male quanto quelle assunzioni siano giuste o no ma se questo è vero tu puoi fare un dcf mentale come dicevamo prima perché nel momento in cui tu guardi i multipli e guardi l'azienda quanto è forte quanto cresce allora automaticamente tu sai che il prezzo attuale rispetta già delle aspettative e il prezzo attuale riflette già dei multipli quindi se quei multipli sono alti necessariamente un dcf darà un numero alto perché le aspettative implicite in quel prezzo sono alte facciamo un esempio opposto a me è capitato nel 2016 questa condizione bellissima interpump che quotava a circa 10 10 p e 12 p e una cosa ridicola e nel frattempo cresceva del 20 per cento all'anno margini spaventosi da big tech crescita da big tech facciamo pure buyback perché era giù paura italia ai tempi andava molto di moda rischio italia il btp e cazzi e ma e ci serve veramente un dcf per capire che se tu stai comprando un'azienda che cresce dal 20 per cento strutturalmente ti rendi conto che è un business con poca competizione loro sono già i leader del settore sono dominanti a livello mondiale alle pompe le pompe idrauliche chi è che si mette da zero a competere con loro anzi sono loro che si mangiano tutti i player più piccolini e quindi continuano ad all'ambientare questo 20 per cento di di crescita quindi è un'azienda che è dominante ha dei numeri spaventosi perfetti paghi dieci volte gli utili puoi vederla dal tuo più punti di vista tramite il dcf tu vedi che di fatto compravi una tutta la futura crescita gratis infatti io poi l'avevo fatto come esperimento ha detto ma vediamo un po cosa mi dice questo prezzo cioè se io prendo il dcf ci metto crescita zero per per perpetuo praticamente ottenevo esattamente il prezzo al momento quindi vuol dire che se già interpump piuttosto che crescere del 20 per cento cresce del 10 per cento già io festeggio alla grande da un punto di vista di multipli questo qua ragionamento semplice sì semplice che abbiamo fatto non è altro che il peg di peter lynch se il multiple basso la crescita è alta non hai la certezza ma se tu potessi vedere il futuro avendo la certezza che quella lì sarà la crescita tu sai che porti assolutamente probabilità dalle tue parti ok c'è una domanda di nata ciao ragazzi la domanda avendo lavorato anche da analista pensi che le stime per i ricavi e utili per azione degli analisti per i prossimi tre quattro anni tendenzialmente sono le migliori che si possono usare cioè la domanda è usiamo le stime degli analisti per i prossimi tre quattro anni direi come punto di partenza non è male ma non è male soprattutto perché connettendo a me al discorso che facevo prima mi piace mettere alla prova quello che già è e quello che già è il prezzo attuale e il prezzo stimato dagli analisti lì non devo inventarmi niente quindi piuttosto che prima di inventarmi le cose e partire io con le assunzioni vediamo quanto è vero slash sensato quello che gli analisti dicono perché potrebbe essere che gli analisti stanno scazzando completamente ma come faccio a capire se stanno scazzando completamente se ho un modo di vedere l'azienda e soprattutto conosco l'azienda bene quindi tutti questi discorsi che noi adesso stiamo facendo del metto il numerino testo l'assunzione è possibile fare solo esclusivamente nel momento in cui uno ci perde la testa nel capire l'azienda se uno invece dice ok prendo apple ci faccio il modellino e alla presunzione che il mio modellino sia più rappresentativo dalla realtà di un analista senza che io abbia veramente studiato come girano i numeri di apple apple come può essere qualsiasi azienda allora è un fatto che vedo spesso è quando si approcciano un'azienda c'è alcuni anche che nel gruppo nostro discord lo fanno nella circola doveva l'investor la prima cosa che fanno senza manco sapere cosa fa l'azienda vanno sul cavolo di scambio di cash flow ah ma mi sembra sopravvalutata se manco cosa fa come fai a dire come hai fatto queste assunzioni di crescita o di margini o quello che è quindi c'è alla fine uno dei problemi di scambio di cash flow che mi sembra la formula magica che ti va a risolvere ogni problema di investimento poi a usare quello e se ti viene che è sottovalutata sarà sottovalutata quando invece forse l'attenzione tu ad esempio nelle tue valutazioni la fai molto più sulla qualità del business da quello che ho capito e la gente molto più sul monte diciamo così sul vantaggio competitivo ex analista mi vergogno profondamente di aver capito che tesla era un'azienda dominante nel 2013 14 nel momento in cui era veramente tirata dietro era al 2018 19 che era il momento in cui io ero l'analista e mi era veramente chiarissimo che tesla sarebbe stato dominante infatti il mio modo di ragionare l'era stata compro brembo perché brembo fai i freni della tesla so questa informazione che iper nascosta nel momento in cui tesla vola anche brembo segue poi su brembo specifico ci sono delle altre dinamiche però per farti capire che a me era chiaro che tesla sarebbe diventata dominante però perché non c'è investito perché ad analista tu la vedevi da un punto di vista puramente numerico dici una schifezza brucia soldi diluisce dice production hell chissà se va ma se invece avessi ragionato più da un punto di vista qualitativo e avessi fatto questo ragionamento che abbiamo appena fatto nel ok più che mettere come input le mie assunzioni guardo qual è la realtà capisco veramente bene la realtà discuto dalla realtà con altre persone come facciamo nel ciclo dei vali investor tutte quelle informazioni lì valgono estremamente di più di un esercizio numerico perché perché se tu capisci quelle informazioni qualitative la realtà brutale è che il dcf non ti serve neanche se non magari per dire sai cosa testo effettivamente che sto facendo un buon affare anche se le assunzioni poi di crescita vanno male ma è solamente conoscendo veramente tutte queste informazioni che allora poi tu hai quella saggezza di dire questo numero ha senso o questo numero non ha senso ad esempio se io ti dico dino io capisco che tu la capisci e quindi nel momento in cui parli di stime di crescita future non mi vieni fuori con un numero a cavolo però se uno invece parte solo dai modelli e poi dice ok una volta che il modello mi dice che ha senso studio l'azienda allora lì c'è qualcosa che non va sì non ricordo chi era c'era uno che diceva termo fisher ottima azienda però ha un pie di 30 quindi basta è finita l'analisi non voglio più ho visto il pie non voglio neanche più andare avanti ma guarda quello che io ho notato è che soprattutto tra i valinvestor e includo me stesso nei valinvestor anche se in questo momento sono un po più sul sul filone growth così però alla fine sono tutta nomenclatura cioè non è la vera essenza è che c'è molto questa tensione nel dire il multiplo alto allora evito oppure non studio più l'azienda la cosa che ho imparato e che magari può dare lo spunto ad altre persone è quello di partire all'opposto ho visto che il bias di tanti valinvestor è voglio comprare l'azienda che ha il prezzo basso perché buffett dice così perché valinvestor per definizione cerca l'opportunità è vero però quando tu cerchi l'opportunità ti metti mentalmente in una predisposizione nel nel dubbio è più facile che sia un'opportunità che no a maggior ragione se mi piace l'azienda quello che invece ho imparato a fare ho visto che ha contribuito a farmi fare un salto importante da investitore è ribaltare la dinamica quali sono le aziende che indipendentemente dal prezzo io necessariamente voglio perché capisco che le capisco e capisco che sono dominanti e quindi anche se scazzo l'entry di un pochino comunque alla lunga so che non sbaglio e poi in funzione del prezzo attuale aggiusto la mia allocazione per riflettere quell'opportunità quindi immaginate questa situazione ipotetica ci sono sicuramente quelle 45 aziende che tu intuitivamente capisci e conosci meglio della media del mercato ad esempio nel tuo caso anzi ti faccio io la domanda ma so già la risposta quali sono le facciamo le tue tre aziende che dici potenzialmente sai che hai un edge vabbè ne abbiamo pure parlato cioè su dinopolska secondo me la conosco molto molto bene perché un settore che mi piace molto quella la poi su meta anche la conosco molto molto bene perché anche un settore dove comunque ci lavoro e anche alibaba ormai la conosco non dico come le mie tasche però la conosco alla grande vedi queste qui sono aziende che tu probabilmente avresti indipendentemente dal prezzo magari e se è così allora poi nel momento in cui il prezzo si verifica come una vera opportunità hai la confidence di dire ok adesso vado pesante perché cos'è il rischio di qua parlo per esperienza mia personale con una di quelle che hai nominato io con alibaba ho fatto ad oggi il mio errore più costoso perché ero entrato cavolo ma questa qua è un'azienda forte dominante il prezzo ai tempi era già buonissimo cioè quando ero entrato che jack my era sparito la realtà che da un punto di vista di prezzo era già buona lì stiamo parlando di sopra i 200 ok quindi non è che ai tempi quando è iniziato a crollare facesse schifo da un punto di vista valutazione anzi era già al contrario era già appealing glee ma cos'è il problema che io mi sono interessato ad alibaba non perché intuitivamente la volessi o che di base avessi già studiato alibaba nel corso degli anni quindi ero già di pronto da ad acchiappare la preda ma mi intrigava il fatto cavolo è veramente chip cavolo questa qua è un'azienda forte cioè ci sono dentro anche vari investor eccetera e quindi ho alimentato il mio confirmation bias di per quello che racconto del è più importante avere quelle aziende che tu necessariamente studieresti la mattina sera indipendentemente dal prezzo in modo tale che nel momento in cui il prezzo diventa veramente un'opportunità tu non hai paura a colpire perché nel momento in cui c'è l'opportunità veramente grossa anche se tu sei per confident qualche dubbio ce l'hai per definizione di quando investi se non sei un malato mentale completamente asettico qualche dubbio te lo fai però io l'ho visto nel mio caso l'anno scorso quando il panico regnava sovrano su palantir che era tirata veramente dietro io ho detto no questa qui è un'opportunità so che ragione e perché avendola studiata per tre anni maniacalmente mi era chiaro che mi fosse più chiara l'azienda della maggior parte della gente sul mercato ci sono andato con un 80 per cento del capitale e quindi mi sono reso conto che se io non avessi avuto i tre anni alle spalle che in cui ogni giorno in cui la studiassi confermava il fatto che io l'azienda la volevo aspettavo solamente l'opportunità di prezzo non avrei avuto la testa di poterlo fare perché comunque nonostante abbia fatto una buona entry a dicembre quindi un anno fa mi sono ritrovato sotto al 30 per cento ora è sopra del 150 per cento ma un anno fa era sotto al 30 e un 30 quando ha un portafoglio iper concentrato mentalmente lo subisci e l'unico modo per non smattare è avere la confidenza deve essere chiaro almeno per te qual è la simmetria tra ciò che tu capisci ciò che il mercato vede ed è solo una questione di tempo se quello che vedi tu è la realtà prima o poi che anche il mercato si adegui c'è questa domanda di mirco lui dice no prendi in face invidia ok entrambi aziende prima del crollo prezzi da apparente bolla ok in face invidia in face si è rivelata poi tale lui dice bolla la luce delle ultime trimestrali invidiano come facevamo a capire che una dei due c'era il pacco diciamo ma allora diciamo che la possiamo vedere da più punti di vista un punto di vista che si connette molto con quello che abbiamo appena detto è avere la consapevolezza sull'azienda e sul settore ma quando tu conosci veramente l'azienda per definizione conosci bene anche il settore e se hai studiato veramente bene ti rendi conto che per me un attimo tutti gli acquisti di pannelli fotovoltaici sono connessi all'acquisto di nuove case sono tutti gli acquisti connessi al debito e se tutta la leva della crescita è in funzione della leva finanziaria lì c'è un grossissimo punto di debolezza quindi siamo abbiamo passato degli anni a tassi zero in cui fare queste cose era oggettivamente conveniente perché il costo opportunità lo rendeva tale tutti hanno comprato casa nuova non ristrutturato si sono messi il pannellino hanno avuto il vento di crescita super a favore e questo era riflesso nei numeri tale per cui i numeri di enphase al picco incorporavano che il vento a favore sarebbe continuato anche se magari c'era stimato un po di crescita in meno comunque si aspettava anche perché c'era c'era anche la narrativa come dice anche mirco giustamente che il solare sarebbe stato capito un trend mega trend infinito e forse anche un po sopravvalutato questa cosa qua no che sembrava che adesso dalla mattina alla sera tutti quanti con solare solare energia solare ovunque ma infatti questo è un po il rischio di quando si investe in questi mega trend il problema del mega trend solar è se posso dirlo è che era un trend ormai esaurito in realtà c'erano anche i modi di capire che trend solar energy ev fosse ormai abbastanza agli sgoccioli un po per la durata ormai una volta che in fesa aveva fatto 10.000 per cento uno dice vabbè vuol dire che dove dove esserci la spinta ormai c'è stata uno valuta vede il prezzo dice cavolo incorpora ancora che continui a verificarsi investire fosse sempre così facili quello un segnale ma se lo vediamo vedere da un punto di vista magari un po più da tecnico di mercato è modo semplice guardare le pio negli anni 2020 21 c'è stato lo show delle aziende i vi solar eccetera e quando inizia a renderti conto fermi un attimo ci stanno contando in borsa aziende anche schifezze a molti più alti quello è tipicamente un segnale che il trend è in esaurimento e quindi confrontiamola con quello che vediamo ad invidia invidia in questo momento è in un momento chiaramente di estrema luce ma domanda interessante quante ipo hai visto lato ai c'è sì tante quali è ma non adesso quando parli no no io adesso parlo di adesso cioè invidia ora ok ma ora ora siamo in questo all'inizio di questo mega trend dell'intelligenza artificiale invidia chiaramente essendo l'azienda più intuitiva del macro del macro tema è quella che esplosa subito in questo momento i suoi numeri pure vanno alle stelle e quindi qua scatta già la domanda del come faccio a capire se sono in una condizione in phase o no e uno deve dire ok ma da qui a i prossimi tre cinque anni il trend sotto ha effettivamente spinta per sostenere i numeri di questa leader di mercato qua è un buon punto di domanda guardando un po quello che succede sul mercato come è la reazione dai vari player a me viene da dire che il trend dell'intelligenza artificiale è un macro trend come quello dell'energy solar eccetera ma però non solo molto più lungo ma anche più potente perché impatta poi tutte le altre dimensioni di business a livello settoriale cioè per l'intelligenza artificiale magari intendiamo anche intelligenza artificiale che rende coca cola più 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 efficiente e quindi non è solo una cosa di nicchia lato energy oppure lato car perché l'auto elettrica è carina quindi è tipo la nuova internet diciamo infatti questo è un po la differenza che vedo in video in questo momento io non la toccherei perché a capisco che non la capisco abbastanza ho provato ad avere md mi è diventato chiaro che non mi interessa abbastanza da seguire veramente le cose tecniche e personalmente vedo un rischio gigantesco attorno a cina taiwan e quindi fa dire così la valutazione è chiaramente come dire alta ma direi giustamente meritata in questo momento e di entrambe realtà la mia comprensione del capisco che non ne capisco abbastanza mi fa dire semplicemente io ci sto fuori ma quello che ti posso dire è che lato software quindi ad esempio io sono investito in palantir il tutto questo movimento di intelligenza artificiale è in questo momento molto riflesso nel prezzo ma i numeri iniziano giusto ora a muoversi e la mia aspettativa quindi qua premetto qua sono più speculatore è fino a che non inizia a vedere ogni tra ogni tre giorni una spac e iai che si quota dei numeri discutibili a a molti più valutazioni assurde mi fa dire il trend è caldo è chiaramente di interesse ma non è bolla come c'era 2020 2021 per lato ivi ok qua un'azienda come qualcomm come fare a definire la sua posizione nel mercato i concorrenti diretti ed eventuali vantaggi andando a vedere bilanci sembra molto altanenante l'andamento di qualcomm vabbè anche perché ci sarà un po di ciclicità nel in un'azienda giusto che fa processore come qualcomm quindi per questo magari il bilancio lo vedi un po altanenante tu come fai a vedere non lo so un vantaggio la sua posizione del mercato di qualcomm ma allora qualcomm non l'ho mai studiata approfitto approfonditamente da dire ok questo come dire questa è l'azienda compete veramente con queste altre aziende si è nel settore semiconduttore eccetera essendo un'azienda che non mi interessa non ci perdo troppo la testa quindi per ormai formazione mentale che è stato il processo che ho dovuto innescare rigettando praticamente il modus operandi da analista e da persona che ha lavorato in finanza e quando tu sei in quegli ambienti devi avere sempre un'opinione su tutto da investitore tu hai il rischio su te stessa quindi tutto ciò che mi rendo conto che non posso avere non rientra nel mio circolo di competenza dico boh se leggo qualcosa sono curioso di imparare preferisco e direi ne vale la mia sopravvivenza che io mi dedichi veramente ad assicurarmi che le poche aziende su cui sono investito non si becchino delle cannonate quali sono attualmente le aziende che ti interessano di più armi beh abbiamo parlato tanto di palantir perché è quella su cui praticamente condivido online eccetera e quindi escludiamo quella in questo momento sono molto interessato ma sono anche parecchio esposto a un'azienda che ai miei occhi è hyper value ma sicuramente tutti i vali investor qui connessi diranno che schifo che era mai ok allora spiegaci un po secondo te cosa c'è di interessante in robin hood abbiamo parlato di dominanza e siamo investitori retail quindi non è un qualcosa di lontano a noi perché siamo qui a parlare di finanza in diretta in un in un setting che già dieci anni fa era in realtà completamente inconcepibile no quindi il mondo del retail brokerage è cambiato ed è c'è solamente un'azienda che cattura tutti i feticisti del mercato come noi in modo efficace e che soprattutto capisce quali sono le esigenze di retail emergenti è solo robin hood poi ora è stata vittimizzata come si dice demonizzata per game stop ma uno deve fare un passo indietro e dire com'è possibile che robin hood sia arrivata a quel punto quando il brokerage la aziendina di trading non è niente di anomalo ho iniziato ad investire una decina d'anni fa di piattaforme ne ho provate tante come è possibile che tra tutte queste piattaforme che sono emerse fa 500 i toro dei giro così nessuna è riuscita a creare un qualcosa come ha creato robin hood qual è quella cosa diversa e quella cosa diversa è che differentemente a tutte le altre aziende che sono praticamente broker che interagiscono con utenti robin hood è un'azienda tech della silicon valley che cerca di distruggere trasformare un settore ha una missione ben chiara e la struttura di business è palesemente diversa e questo non solo trasmette dall'esperienza utente dove robin hood è palesemente dominante nel lato retail us da noi purtroppo non c'è ancora ma è diventato a tutti gli effetti un punto di riferimento mettendoci con quello che abbiamo detto prima robin hood entrata nel mercato e ha cambiato le regole del gioco con le sue commissioni gratis quindi è una cosa di per sé semplice ma poi shrub colosso da 100 200 billion non mi ricordo cosa ha dovuto fare ha dovuto seguire robin hood fa ridere sta cosa fa capire il potere c'è la dominanza che c'è nel settore robin hood stanno seguendo stanno cercando di imitare robin hood in pratica non solo si sono spaventati talmente tanto le grandi banche quindi shrub e morgan stalli che hanno fatto due acquisizioni gigantesche pur di contrastare robin hood hanno comprato i competitor td ameritrade e e trade hanno pagato una cosa come 20 30 billion per avere questa azienda sa cosa è la cosa divertente che ad esempio shrub adesso volendo integrare td ameritrade sta dicendo voi utenti adesso iniziate usare la nostra piattaforma quindi come se tu fossi un utente robin hood e vieni forzato usare fine coi dici no capoli ok ma in tutto questo robin hood è quotata cash in pratica come valutazione esatto infatti questo per arrivare al punto che è un'azienda sta facendo come dire viene percepita come una schifezza e se la guardi in modo superficiale dice ma sai cosa sembra una schifezza tutti gli effetti ma nel momento in cui non la vedi da un punto di vista puramente numerico da analista ma dici ok fammi capire un attimo cosa sta combinando questa azienda cioè perché i numeri in questo momento sono così e stanno facendo la cosa giusto stanno facendo la cosa sbagliata allora inizia a prendere una prospettiva molto diversa in questo momento robin hood trada cash quindi quasi a cash con una market cap di fammi vedere per essere preciso ma siamo una market cap di 7 billion esattamente 7 billion dentro ci sono circa 6 billion di cash cosa vuol dire vuol dire che fondamentalmente tu con un billion realmente ti compri 20 milioni di account 10 milioni di active user la piattaforma tech più amata in america e tra l'altro non di poco ho fatto trovato anche delle statistiche super interessanti dall'app store dove i download di robin hood sono tipo sempre nei primi 20 e poi ci sono le altre che ho citato prima che sono tipo cinquantesima sessantesima poi è vero robin hood attualmente ha degli user che sono o poveri o degenerati questo è da dire ma la cosa che le persone sottovalutano è che se tu inizi fin da subito quando sei ancora povero squattrinato degenerato a sviluppare le abitudini e quella piattaforma diventa una piattaforma su cui tu hai fiducia e quando inizi a lavorare inizi non solo a divertirti ma facendo il traderone ma inizi ad avere i tuoi piani di accumulo ancora più importante ad avere il tuo piano pensionistico su cui tra l'altro robin hood ti dà fino al 3 per cento match quindi oltre ai tuoi contributi robin hood ti regala un 3 per cento allora dici ferma un attimo l'azienda viene percepita come un'azienda di trading degenerato ma la realtà è che robin hood sta diventando sempre di più un'azienda wealth chiaramente non aveva senso puntare su quello nel momento in cui i tassi erano a zero già mettiti nell'ottica di robin hood scusami i tassi sono a zero tu cosa fai fai wealth management o fai trading degenerato come obiettivo spingi nel settore su cui cresci e tra l'altro è anche quello più difficile cioè riuscire a diventare la piattaforma di riferimento che gli utenti più sofisticati sono contenti di usare è palesemente difficile e solamente un'azienda maniacale con il design come una rb come una apple come un airbnb possono veramente fare allora lì dici cavolo se nonostante tutto il casino che è successo con gamestop gli utenti attivi sono ancora lì e tu guardi i numeri dei depositi come abbiamo detto ogni settore ogni tipo di azienda ha delle metriche che sono più importanti di un'altra per un broker è l'equivalente come per le banche quindi possiamo approssimare per l'azienda finanziare la metrica più importante di tutte è ma le persone sono confident a dare questa azienda sempre più dei loro risparmi questo può avvenire o come deposito oppure nel caso di robin hood con la pensione metterci sempre più soldi sul conto trading e così via e questo è quello che sta succedendo quindi questo non solo è in aumento ma in aumento molto forte il questo che ti ho raccontato della pensione su cui robin hood fa un 3 per cento match è una cosa che sta avendo molta rilevanza robin hood che ti fa cash sweep quindi che ti dà il 5 per cento sul cash che tieni depositato fino a tipo 2 milioni e 5 quindi che è oltre i classici 100k che ci sono sia in italia sia in america assicurati fa sì che robin hood stessa non stia incentivando il lato trading chiaramente wall street bets tu guardi ci sono ancora un sacco di degenerati ma il focus dell'azienda ora è sul i tassi sono alti noi stessi con il nostro cash abbiamo il 5 per cento da 6 billion risk free e quello che puntiamo a fare ora non è stimolare il trading degenerato quando gli utenti in questo momento non stanno tradando c'è poca volatilità le persone dicono ma cosa tra da fare prendo un 5 per cento e quindi robin hood sta dirottando le sue attenzioni sul prendo nuovi clienti e soprattutto mantengo quegli stessi clienti e faccio sì che le depositano sempre di più ok se questo è vero e le persone poi depositano piuttosto che mille depositano 10.000 così via allora poi robin hood monetizza in altri modi tipo il security branding quindi tutti gli asset che sono sulla piattaforma robin hood ripresta a chi fa shorting eccetera e diventa tutto interest income quindi il processo è robin hood viene valutata schifo perché tutto il mercato vede i monthly active user robin hood stessa non sta puntando sulla massimizzazione dell'attività degli utenti ma sul prendere risorse da questi utenti e quindi c'è questo mismatch in cui robin hood tra da che è stato guarda una cosa quando invece se ne perde un altro cioè adesso il mercato sta guardando il flusso di trading cioè quanta gente che sta facendo trading su robin hood quando invece non dovrebbe guardare quanti depositi ci mette invece sulla piattaforma in questo momento è esattamente come scambi sopassi meta che era crollata perché o mio dio facebook sta rallentando ma sì ma grazie al cavolo c'è instagram che sta crescendo al 60 per cento è stato uno dei miei primi video ma ma vi rendete conto che tutti state impanicando per facebook chi se ne frega di facebook c'è instagram però nessuno veramente nessuno parlava di instagram e per me era allucinante e quindi quando ci sono queste dinamiche in cui se studi l'azienda e cerchi di capire non solo quello che sta succedendo a livello di numeri ma soprattutto ti rendi conto da un punto di vista strategico lo shift e lì per capirlo devi capire il business e soprattutto capire molto la mente degli imprenditori una cosa che io faccio che ho notato il mio portafoglio sono praticamente sei cinque aziende tanto sei sono tutte founder led e ho perso infinito tempo nel cercare di capire la psiche degli amministratori delegati perché è quello che ti fa capire quali sono per loro le priorità molte volte te lo dicono anche loro stesso o magari se li conosci abbastanza capisci che una determinata informazione corrisponde a un top quindi per dirla in soldoni su robin hood ora paghi cash quindi praticamente compri tutta l'industria vuol dire tutto la tutto il tech più utenti connessi gratis quasi ma dentro c'è un'opzionalità disumana un'opzionalità che da una parte viene dalla crescita organica degli utenti cosa che dovrebbe avvenire a breve con l'entrata in UK dall'altra parte se per caso divino succede un spike di sentiment che sia un'eccessa un'eccessiva avidità o un'eccessiva paura che va a 3000 indovinate un po cosa succede gli utenti iniziano a tradare come dei matti e ora hanno anche molti più depositi hanno molto più asset ok e l'altra azienda invece che era interessante nel tuo portafoglio cos'era Airbnb Airbnb che sto studiando sto approfondendo molto meglio ora che è una di quelle che mi fa veramente pensare mi fa pensare perché quando l'hanno quotata in borsa ho pensato la voglio la voglio la voglio poi l'hanno quotata ma cavolo sta valutazione se la possono anche tenere ora sono passati ormai tre anni dalla quotazione i numeri sono completamente cambiati quando l'hanno quotata Airbnb era un po una schifezza nel senso che cresceva bomba ma sotto a livello di free cash flow utili c'era niente anzi era un po buco nero a maggior ragione della pandemia e non solo è sopravvissuta ma è sopravvissuta la pandemia avendo fatto praticamente il taglio del secolo ovvero hanno capito che se dovevano andare avanti dovevano prendere misure drastiche hanno fatto un taglio della forza lavoro molto forte hanno rivoluzionato i team interni per estremizzare la velocità e la qualità con cui migliorano e adesso è un'azienda che a tutti gli effetti ha un free cash flow margine di circa il 40 per cento anche se ci togli le sb si rimane un net profit di circa 30 per cento se non sbaglio una cosa abbastanza allucinante e la cosa assurda cos'è che quando l'hanno quotata tutti la volevano ora che è un'azienda perfetta da un punto di vista numerico tutti la schifano e ti dirò non solo la schifano ma la odiano perfino e per questo twitter è divertentissimo ti ho condiviso lo schermo aspetta ecco qua mi sono divertito scorse settimane a fare un po dei poll chiesto ma rbnb è morta per il 40 per cento degli utenti su twitter quindi 400 che hanno risposto è morta ok andiamo altro tweet qual è il best buy per i prossimi cinque anni e ho messo tesla che mi piace una piccolissima posizione perché al momento mi piace l'azienda la voglio tornando connettendomi a quello che ho detto prima non è ancora un prezzo che mi fa dire ha senso caricato la voglio ma ce non può per la maggior parte degli utenti su twitter quindi 1100 voti tesla è il best buy secondo rob ador e tra gli ador c'era un po di baba palantir ovviamente ovvio vabbè tu c'era tutta la comunità lemonade so fai vld uber ok robin hood pochino rbnb non ci crede nessuno niente è un'azienda che cresce dal 20 per cento all'anno con un 40 per cento di free cash full margin sicuramente è un'azienda che fa schifo ma è stato po l'avevo fatto per robin hood e robin hood morta praticamente rbnb ha la stessa probabilità di morire di robin hood con 6 billion di cash ma questo è ancora è stato il mio pol preferito odio quest'azienda praticamente rbnb ha vinto come l'azienda che ha vinto ma com'è possibile perché fondamentalmente ora si è diffusa tutta la narrativa del rbnb burst praticamente gli influencer che hanno fatto i degenerati comprando le case a prezzi folli con l'aspettativa di faccio l'arbnb a prezzi folli o mio dio adesso il mutuo costa tanto non ci sto dentro quindi cattivo rbnb gli utenti dicono le cleaning fees erano alle stelle sì però le cleaning fees chi è che le fissa le fissa l'host non fissa rbnb certo e quindi si è creato tutta sta costellazione di in questo momento tutti odiano rbnb ma se tu guardi la realtà rbnb sta facendo bene in questo momento si ha un po di casini legali con alcuni stati ad esempio new york ha messo delle restrizioni in questo momento l'italia ha detto rbnb cara hai capito troppo bene come funziona in italia non ci hai pagato le tasse per quattro anni ma ce le devi ridare ok cos'è un billion potenziale di tassa massima quando tu hai 10 billion e stampi 4 billion all'anno dici ok non è la fine del mondo quindi un'azienda come rbnb che ha moltipli scomi a margini assurdi a revenue molto forte è un dual si chiama dual marketplace business quindi dove è un doppio network tra host e guest che è molto difficile da creare ma ha la spettacolarità che praticamente cresce naturalmente quanto più la reputazione di quel network cresce e non ha bisogno di capex aggiuntive un business del genere è una macchina da soldi è un business che potenzialmente se tradasse a 30 volte gli utili direi ci sta ci sta e magari anche di più se mantiene la crescita così è effettivamente possibile e qua scatta il cerchiamo di capire cosa fa fa cosa fa l'azienda e faccio la domanda quando secondo te a livello di free cash flow da quando è che dici cavolo però effettivamente merita di più ah dipende dall'azienda su airbnb ma un'azienda del genere con queste prospettive del genere merito 40 per cento di free cash flow e cavoli qua dobbiamo stare almeno 25 30 volte trada 17 quindi praticamente trada come un'azienda average ma ai miei occhi è tutto trada che un'azienda average devo prendere un affitto a breve termine quali sono le opzioni io ne conosco di fatto due perché da noi xpedia non prende neanche molto e quindi o vai su booking o vai su airbnb e poi qui la domanda ok ma tra le due qual è quella veramente dominante in questo momento se la vedono abbastanza la pari a livello di numeri di margini eccetera a livello di potenza del business e di drive dell'azienda sono veramente la pari ai miei occhi assolutamente no booking è un'azienda spettacolare l'ho anche avuta mi piace il management il business è oggettivamente forte ma c'è un grande ma booking è dominante perché sono stati quelli intelligenti a sfruttare google avevo studiato un po la differenza tra google xpedia la differenza tra le due e il motivo per cui booking è booking è che hanno capito che dovevano pagare google mentre xpedia ha fatto la marciona e ha lavorato solo sul seo dice pensando no no se noi ottimizziamo seo tutto va bene esatto mentre booking ha detto non ho sti cavoli paghiamo google infinito ci sono delle statistiche che dicono che booking è l'azienda cliente numero uno di google quindi che sia ancora vero no però rende l'idea di quanto effettivamente booking dipenda da google e dice cavolo a tutti gli effetti booking è un'azienda molto forte però quindi a parità di numeri diciamo che a livello di crescita e margini adesso sono molto simili anche proprio come size e quindi scatta un po ok ma quale delle due preferisci in questo momento preferisco b&b nonostante sia un pelino più cara in realtà non non sembrano care entrambe però questione di dna booking è un'azienda che fa quello che deve fare un po come dire una microsoft arriben b è un'azienda che ha un dna e visto che valuto molto tutti gli aspetti qualitativi soprattutto il thunder vedo in airbnb una un dna molto più forte quindi che questo passa sia dalla cultura aziendale in cui l'amministratore legato ha dovuto distruggere l'azienda durante il covid per farla sopravvivere è una situazione estremamente proprio più precaria e ora il fatto che sia riuscita a uscire da quella situazione del cavolo la rende più forte perché hanno paura di scoppiare sono arrivati a tanto così dallo scoppiare l'amministratore è uno che tira fuori i conigli dal capello dal cappello una cosa la conosce la storia di airbnb proprio come hanno ottenuto il funding iniziale no allora per di là in proprio in tre parole la storia di airbnb è partita dall'esigenza del thunder che aveva bisogno di fare un po di soldi perché era squattrinato e c'era il festival del design in quel momento e quindi lui e il suo coinquilino detto ma sai cosa affittiamo la stanza per quella settimana quelle settimane un po come a milano quando c'è il salone del mobile praticamente ti fa il mese se non di più affittando la la stanzina e hanno condiviso poi questa esperienza con queste persone che sono rimaste questa settimana cavolo questa qua è un'idea forte cioè questo è come potrebbero essere viaggiare tra un 5 10 anni e lì hanno creato il business business che è morto quindi era arrivato a morire più di una volta tanto così ma poi sai come tiravano su soldi praticamente a vendevano seriali scatole di seriali da 40 dollari l'uno facevano hanno fatto edizioni speciali di seriali airbnb cioè i seriali airbnb no hanno era l'anno delle elezioni e l'amministratore che è bravo nel design ha creato queste edizioni limitate di seriali che loro vendevano a 40 dollari l'uno e le hanno vendute a cavolo poi come dire il filone è un po andato morendo si sono ritrovati nuovamente in difficoltà sono riusciti ad entrare in y combinator ad avere il colloquio con y combinator nonostante fosse già uscita come dire già fossero fuori deadline paul grum che era praticamente il boss di era schifato dall'idea di airbnb non non ci credeva e hanno detto ma perché dovrei scegliere voi e il thunder arrivato con sta scatola detto siamo andati avanti vendendo 40 dollari l'uno se siamo riusciti a vendere questi seriali a 40 dollari l'uno pensate che non siamo in grado tra 5 anni 10 anni di far accettare alle persone che ospitare un qualcuno a pagamento sia una brutta idea boom e da lì sono entrati in y combinatoria proprio e quindi tutto sto pippone ti piace il management per dire questo alla fine cioè ti piace molto di più di quello di booking quello di booking è un manager a tutti gli effetti è uno che fa andare avanti il business è un imprenditore come quello di airbnb quello di airbnb è un pazzo fanatico e un pazzo fanatico non solo ci tiene di più alla sua azienda ha maggior ragione che l'ha vista tanto così da morire più volte ma soprattutto ha creato un business che ha un'opzionalità molto più forte di booking booking è un servizio airbnb è un'esperienza nessuno dice compro un booking prendo un booking prendo un airbnb e quindi tutto sto insieme di circostanze a maggior ragione che ha una crescita forte un multiplo basso a me viene da dire questa qua è l'azienda che probabilmente peterlin c'è in portafoglio ci sta sono d'accordo o direi che abbiamo fatto una bella live a meno a me così sembrate francesco conferma e allora chiaramente ragazzi adesso devo fare una cosa uno dovete iscrivervi al canale di arni chiaramente lo trovate come arni trezzi anche se in inglese quindi dovete sapere l'inglese però dovete seguirlo perché è fortissimo poi su palantir cioè se parlate con l'amministratore delegato di palantir o con lui bene o male sanno le stesse cose è super successo poi dovete seguirlo su twitter o adesso come si chiama x e ovviamente lo trovate anche con noi nel circolo dei vari investor gruppo disco quindi se volete anche iscrivere al gruppo noi parliamo di questo alla fine nel gruppo e arni bene male può confermare che parliamo di investimenti di analisi di aziende non è che diamo le dritte compra questo a 27 20 a 25 analisi fondamentale e arni è stato veramente un piacere magari poi ne facciamo un'altra appena hai qualche altra bella idea da presentarci qualche altra bella azienda alla l'inch e ragazzi ci vediamo grazie a tutti alla prossima grazie grazie davide di questa occasione una piccola cosa ragazzi quello che davide sta creando con il circolo dei vari investor non è unico ma di più e la qualità la quantità di valore che è possibile trovare vale infinite volte quello che di fatto costa ma al di là del costo penso che è il confronto io davide ci siamo confrontati ormai a lungo su tante aziende è quello che fa crescere molto come investitori quindi vi aspettiamo grazie ciao ragazzi buona serata ciao ciao